Musica Ennesima settimana nera, quella trascorsa per i treni a lunga percorrenza in Sicilia. Sono diversi i casi di ritardi di servizi e addirittura soppressione delle corse nella nostra regione. Sabato 11 maggio i viaggiatori che avevano prenotato un vacone letto o una cucetta sull'utreno 1954 si sono visti dirottati senza alcun preavviso sull'utreno successivo per Roma. In partenza due ore e mezza dopo, i armati di bagagli sono stati costretti ad attendere nelle stazioni senza alcuna assistenza. Analoga sorte è toccata nei giorni precedenti ai viaggiatori dei treni 729-730 costretti a trasbordare a Messina anche loro con i bagagli pesanti su mezzi del trasporto regionale per poi essere imbarcati sulla nave traghetto e dirigersi a Roma. La principale causa di queste disfunzioni, sottolineano il segretario generale della CISL Messina Tonino e il segretario territoriale della FIT CISL Letterio D'Amico, è dovuta alla mancanza di locomotive efficienti visto che quelle che svolgono tale servizio sono ormai vetuste e prossime alla dismissione. Per questo la loro manutenzione è ridotta al minimo e di eseguite solo nella sola officina di Palermo dove la priorità è la riparazione dei treni regionali. Ancora giovedì scorso il treno 730 per Roma è partito da Palermo con 75 minuti di ritardo perché mancava la locomotiva e il treno 1964 per Milano è partito con un'ora di ritardo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Augusta sono intervenuti in un supermercato dove una coppia di donne dopo aver passato in rassegna tutti i reparti si presentavano alla cassa per pagare pochi articoli che presentavano sullo nastro trasportatore celando invece nelle ampie borse da donna che avevano al seguito prodotti alimentari fra i più costosi appena prelevati dagli scaffali. I carabinieri pertanto hanno identificato le donne rispettivamente di 35 e 32 anni entrambe rumene residenti nel Ragusano dichiarandole in arresto e restituendo la refurtiva alle titolari del supermercato. Il pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Siracusa preso atto dell'attività svolta dai carabinieri hanno confanitato l'arresto e poiché le donne risultavano incensurate ne ha disposto la contestuale liberazione. E' stato un successo il secondo concerto di primavera della banda musicale di Carlentini diretta dal maestro Marco Loisi con la partecipazione del tenore Antonio Alecci e della mezzo soprano Silvana Iannelli. Lo spettacolo musicale ha avuto luogo nel teatro comunale di Carlentini alla presenza di un forte e qualificato pubblico che non ha mancato di fare sentire il suo calore e il suo apprezzamento per la banda musicale di Carlentini. Fondato da Giuseppe Ciaula che a conclusione della serata ha consegnato anche delle taglie a ricorda al sindaco di Carlentini Giuseppe Stevio e ai componenti della banda musicale. Io ringrazio anzitutto tutti i ragazzi, le mamme e i genitori mia moglie che mi dà anche la possibilità e tutti i genitori che fanno sacrificio per i ragazzi e se avete ragazzi portate la banda tanto non si pagna, è gratis e sarà una cultura per i ragazzi. Ringrazio il Sì, il sindaco di Carlentini Giuseppe Stevio ringrazio il maestro Marco Loise che lascia tutto, impegni per i ragazzi. Grazie a tutti i genitori che lascia tutto, impegni per i ragazzi. Grazie a tutti i genitori che lascia tutto, impegni per i ragazzi. Grazie per la visione!